ente in cui verrà assolutamente messa anche il link a questo video quindi siamo già in diretta grazie allora intanto grazie grazie a dario grazie a renzo anna che hanno accettato l'invito a partecipare a questa presentazione di questo libro libro che vedete se non noi chi ed è un libro da un titolo stimolante che dario ha curato da raggi lini professore ha curato con mettendo insieme un puzzle di eventi prego dario è che sto vedendo su facebook e dice che il video in vivo non è ancora iniziato mi dice a me non so perché prima diceva faceva il countdown 12 minuti eccetera adesso dice e quando arrivato a zero dice il video nel video in vivo non è ancora iniziato io lo vedo tu lo vedi facebook quindi vuol dire che adesso lo vedo anch'io non lo so perché ok scusa scusa l'interruzione ascoltando qualcuno va bene niente io io credo insomma intanto mi sembra un lavoro prezioso e dobbiamo ringraziare mi sento di ringraziare che io la rosa luxemburg che ha consentito eh questa raccolta di di situazioni nazionali che però tutti insieme danno anche un'idea di cosa di cosa è il mondo del lavoro oggi ecco noi eh come trasforma italia ma anche come trasforma Europa stiamo da tempo interrogandoci sulla questione appunto della cosiddetta fine del lavoro cioè il mondo eh del futuro in cui il lavoro è scomparso eh non c'è più eh la fatica ci sono soltanto macchine eh che producono gente felice che che consuma e in realtà come vediamo eh lo vediamo anche qua da noi ck n dalle tante eh fabbriche che stanno chiedendo la dimensione lavorativa non è per niente scomparsa è semplicemente negletta è semplicemente oscurata e marginalizzata come eh voce come potenza politica se vogliamo dire in termini un po' un po' audici però in realtà eh esiste anche dentro il mondo del lavoro una scomparsa di un'identità e questo forse che mi sembra la questione eh principale su cui partire che vorrei chiedere a Dario eh come mai eh pur esistendo il lavoro in realtà poi i lavoratori eh scelgono di non essere rappresentati o di non avere voce questo mi sembra uno degli elementi che che forse il libro mette eh in uso eh microfono e grazie grazie Roberto grazie a Anna e a Lorenzo per partecipare in questa presentazione ovviamente grazie anche alla Fondazione Rosario Luxemburgo che ha reso possibile pubblicare questo libro metterlo insieme e non solo in 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 inglese ma anche in tedesco e tra l'altro se lo cercate si può scaricare gratis eh in internet come pdf quindi quel bellissimo lavoro cioè quale sarà l'idea principale? L'idea principale sarà di andare a vedere ma davvero non 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 esiste più questa identificazione questa rappresentazione eh che ruolo hanno e hanno giocato i i gli operai i lavoratori lavoratrici eccetera e come dobbiamo capirli cioè con tutti i cambiamenti che ci sono stati durante gli ultimi decenni che sicuramente a parte il fatto che ovviamente è stata sempre un immaginario fordista che la maggior parte eh del del mondo del lavoro si situa in relazioni normate eh dentro il mondo fordista con contratti irregolari eccetera non è mai stato così nemmeno negli anni d'oro del fordismo però era la diciamo la la parte più visibile forse nel nell'organizzazione nelle lotte operai eccetera adesso ormai siamo abbiamo visto più di quattro decenni di una diminuzione di di forza eh di di forza associativa di forza eh di eh di protesta di di potere operaio per dirlo così e e e dei lavoratori lavoratrici in in tutti i sensi e e ciò ha portato anche a parte della sinistra a a a dire che c'è sì anche addirittura appoggiare queste idee che il lavoro è sparito che non c'è più che non è più un'identificazione che eh le lotte identitarie sono la cosa più importante eccetera e invece un'altra parte diciamo più ancora che che ha continuato a insistere in questa vecchia immagine fordista del del dell'operaio l'operaio il lavoratore che poi si può anche lasciare via la forma femminile perché le donne non apparevano in questo non c'erano in questo concetto etero patriarcale e su cui si basavano anche tutti tutti i nostri diciamo governi sistemi del del nord del mondo sempre dimenticandosi anche del sud del mondo no? Cioè questa è una cosa che bisogna sottolineare eh ma anche cioè per esempio di di delle delle del del fattore dell'immigrazione del lavoro eh del lavoro femminile e penso che cioè sottolineare tutte queste cose e e e anzitutto anche ad arrivare poi addirittura a dare la colpa per tutte eh gli spostamenti verso la destra ai lavoratori e lavoratori cioè sono loro che sono reazionari che sono di destra che votano i fascisti che votano la lega eccetera eccetera spesso tra l'altro anche eh non non proprio eh comprobio dal punto di vista empirico però eh quindi mi interessava a me mettere insieme qualcosa su esperienze storiche anche attuali e vedere cioè primo il ruolo dei dei lavoratori e lavoratrici qual è stato in progetti in tutti i progetti di di democratizzazione antifascismo antirazzisti cioè quello che va oltre la lotta per il salario che è quella messa al centro da diciamo dalle dai sindacati maggioritari nella logica e fordista e vediamo che anche il stato fatto un grandissimo studio empirico eh pochi anni fa da un gruppo di ricordo più se erano norvegesi eccetera che hanno studiato centinaia e centinaia di 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 lotte e di democratizzazione eccetera nel mondo e sono arrivati alla conclusione che eh il 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 fattore più importante o il gruppo sociale più importante è sempre stato quello degli operai e operaie e se allarghiamo questo concetto addirittura a lavoratori e lavoratrici ci mettiamo magari anche quelli del non solo quelli urbani industriali ma anche gli altri vediamo che l'illusione che sia la classe media illustrata a a portarci la l'uguaglianza la democrazia l'emancipazione la rivoluzione i miglioramenti e un'idea del di questo gruppo di questa fetta della società che però non corrisponde alla realtà quindi eh partendo da lì poi anche è davvero diminuita e l'identificazione è diminuita senza come ho detto senza dubbio la capacità di organizzazione le quanti 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 l'affiliazione sindacale eh eccetera tutto quello lì sì senza dubbio e anche il potere che che hanno e diciamo che si è sbilanciato a favore del capitale e a sfavore del del lavoro però se guardiamo e penso che eh eh ed è quello che sostengo eh anche in questo libro che praticamente con con la pandemia è diventato visibile forse una rottura storica nel senso che adesso non non diminuisce più ma siamo siamo entrando in una fase dove tutti questi cambiamenti eh che ci sono stati nella struttura produttiva nel lavoro nella nella composizione di classe dappertutto cioè non solo nei paesi europei anche a livello globale e negli altri paesi che tutti questi cambiamenti stanno diventando visibili anche in in proteste in organizzazione in eh eccetera e che se prendiamo sul serio tutti i cambiamenti che eh che noi abbiamo anche sempre sostenuto del post-fordismo eccetera allora perché continuiamo a cercare il conflitto capitale lavoro solamente nella fabbrica cioè non ha senso sì cioè è la rivolta in Cile per esempio è stata una rivolta operale non è che sia stata di lavoratori e lavoratrici non è stata la borghesia che ha fatto la rivolta come anche Black Lives Matter in in negli Stati Uniti come anche molte altre di queste rivolte che io direi sono rivolte di comunità di lavoratori e lavoratrici non sono eh non è una cosa a parte e quindi cioè e poi con tutti questi cambi della struttura magari non è non è il caso né di di dire il lavoro non è più un'identità perché ovviamente lo è se vediamo tutti gli scioperi le azioni e le insurrezioni che ci sono state eh anche e specialmente c'è negli anni pre-covid e anche eh durante la pandemia adesso non è né il caso di scartare l'identità di lavoratori e lavoratrici come identità eh che 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 porta a coesione che riesce a a a a formare eh collettivi che di lotta eccetera e né è il caso di scartare le identità perché ovviamente secondo me il capitalismo è una cosa che è strutturata in modo è strutturato in modo gerarchico da varie componenti e il 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 colore della pelle l'idea o l'attribuzione etnica che gli si dà alla gente che poi di solito ha poco a che fare con quello che si sentono che sono e la posizione geografica sono tutti fattori che giocano un ruolo nella gerarchia imposta dal capitale e quindi e sono reali non è che non lo si quindi non si tratta di negare dirà vabbè tutto capitalismo no a occhio cioè queste contraddizioni queste discriminazioni esistono però dobbiamo capirle che sono anche parte del di come funziona il capitalismo quindi non si può né passare alla politica solamente identitaria toccando solo questa identità perché Hillary Clinton non è e non è nella stessa situazione che la 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 messicana che deve lavorare nell'hotel pagata otto dollari all'ora e e però non possiamo neanche passare a mettere solamente la centralità del lavoro senza queste altre condizioni anche perché come penso mostrano vari degli dei capitoli degli articoli e sono giusto cioè le nuove le nuove rivolte la nuova organizzazione eccetera viene dai dai margini in gran parte del mondo viene giusto da queste i movimenti cioè i movimenti cioè sia gli scioperi da McDonald's e molti altri movimenti il movimento la ola verde in 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 argentina cioè movimento di donne femministe cioè sono stati movimenti lavoratrici non è che siano stati né di né identità di diciamo di donne includendo tutte le donne né sono stati solo strettamente legati al lavoro quindi penso che questo sia passo importantissimo eh da da fare e riuscire anche a a vedere poi tutte queste esperienze eh che ci sono state in giro per il mondo eh e anche durante gli ultimi anni dove dove se ne è parlato poco se ne è parlato pochissimo che del del fattore dell'importanza centrale dei lavoratori e lavoratrici nel nel dell'istruzione in Bosnia se ne è parlato pochissimo del ruolo che hanno avuto i i lavoratori lavoratrici addirittura anche gli i pochi relativamente pochi operai industriali nei paesi arabi nella nella cosiddetta primavera araba eccetera non se ne è quasi parlato cioè e quindi mi sembra importante di riportare in discussione queste cose cioè fin quando la contraddizione capitale lavoro non sparisce fin quando non la facciamo finita col capitalismo continuerà ad essere un un asse che anche in qualche modo ci unisce tutti perché ci dobbiamo rivolgere perché dobbiamo viverci perché e perché dobbiamo fare una discussione come anche cambiare eh le relazioni e le relazioni di forza in in questo questo quadro secondo me è fondamentale però come ho detto eh sempre eh e tenendo conto di tutte queste altre eh di questi altri fattori che sono fondamentali nella creazione di questa gerarchia eh dentro al al funzionamento del del capitale e sono anche le diciamo negli ultimi anni i fattori più avanzati della protesta e del dell'organizzazione e non purtroppo cioè come puoi dire purtroppo no però è così e basta cioè quindi secondo me ed è questa sta l'intenzione eh con il libro e quindi anche far vedere questa svolta che poi secondo me c'è stata con e che è il mio capitolo che ne parla che c'è stata con con la pandemia dove secondo me c'è stata una ripresa di lotte cioè mi sembra importante sottolineare che un'operazione che di solito fa il capitale e le nazioni in situazioni di crisi cioè riunire tutti siamo tutti nella stessa barca e e dobbiamo difendere la nazione e sulle classi sono sparite abbiamo tutti lo stesso interesse nella pandemia non è riuscita sì cioè magari non ha le lotte non hanno non hanno avuto quel livello che che magari desideriamo e che che è necessario per cambiare questa relazione di forza tra lavoro e capitale però dall'altra parte questo racconto e diciamo eh nazionalista eh supraclassista eccetera che che unisce tutti come si è fatto anche sempre per le guerre eccetera non ha funzionato per niente durante la pandemia mi sembra un buon segno e ci sono state ci sono ci sono state tantissime lotte e se queste lotte in tantissimi casi non non sono state non sono state notate nelle statistiche per esempio è perché queste statistiche su scioperi e proteste si continuano a basare su questi criteri degli anni settanta cioè il 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 bureau of labor degli Stati Uniti cioè l'agenzia di collogamento lavoro eccetera che c'è qua anche le statistiche su scioperi e proteste ad esempio ha pubblicato ha detto eh no ci sono state meno meno scioperi e meno proteste che mai durante gli ultimi 80 anni meno lo 91 ci sono state meno però se no eh durante la il 1920 la pandemia qui tu guardi su che cosa si basano e loro contano solo gli scioperi indetti ufficialmente da sindacati in in imprese o stabilimenti con più di mille operai o mille dipendenti ai quali hanno partecipato più di mille persone tu dici sì vabbè ma questo non esiste più ormai cioè il 90 per cento delle imprese e stabilimenti che negli anni settanta avevano più di mille eh lavoratori non ce li hanno più cioè il e gli scioperi qua sono stati nel nei servizi nei trasporti anche nella produzione ma non 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 cioè il grandi macellerie eccetera ma anche lì non ci sono mille persone che ci lavorano o per esempio c'è stato un sciopero grandissimo anche non solo durante la pandemia anche per black lives matter e altre questioni del del sindacato di portuali sulla costa pacifica che sono l'ottanta per cento afroamericani sono in venti porti lungo tutta la costa hanno una potenza incredibile anche una conscienza politica molto molto elevata e questi qua però cioè non c'è non non si sono in un porto non lavorano per la tutti per la stessa impresa cioè i loro scioperi non 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 ci sono in queste statistiche anche se riescono a bloccare dei porti per un giorno intero o per un'ora durante black lives matter per non so ne nove minuti per ricordare a a a a morto suffocato eccetera eccetera ma non ci sono anche se sono decine di migliaia di portuali in tutta la costa del pacifico e più di venti porti perché nessuno nessuna delle imprese alle quali partengono a più di mille dipendenti cioè tanto per fare un esempio quindi ovviamente e cioè non dico che stiamo siamo davanti alla vittoria di classe o chissà che cosa sarebbe assurdo e non e per ora non basta nemmeno a cambiare le relazioni di forza che ci sono tra lavoro e capitale però penso che sì siamo e come beverly silver già prevedeva già quasi vent'anni fa che diceva no le nuove forme di lotta le nuove forme di organizzazione nasceranno e nascono proprio dai dai margini e da dal dal dai flussi di migrazione dal da questa gente di dei margini eccetera e quindi mi sembra che questo sia importante da vedere tenere conto grazie dario è molto interessante un bellissimo lavoro come dicevo invito tutti a andare sul sito troverete tutti i riferimenti anche sulla nostra pagina facebook domani quando posteremo il il video che abbiamo realizzato perché mi sono dimenticato magari conviene dire almeno brevemente che di che si tra quali sono i capitoli sono 30 sono 30 però ci sono alcuni alcuni capitoli come per esempio claus d'erre sulle contraddizioni tra democrazia e capitalismo poi paola marella argentina sul le lotte di donne donne lavoratrici poi io scrivo un capitolo su pandemia lotta di classe e poi abbiamo argentina lavoratori contro macri cile la rivolta anti neoliberale neoliberista e la sciopera generale 2019 colombia e sindacati e oltre contro il regime autoritario brasile le lotte contro la dittatura militare dal 64 all'85 poi brasile contemporanea le lotte popolari eh lavoratori lavoratrici contro bolsonaro e il la risposta sindacale eh di lavoratori lavoratrici contro trump l'autorativismo di trump negli stati uniti e lotta eh contro l'apartheid e per una democrazia operaia nel dal 1950 al 90 nel sudafrica lorenzo con il capitolo sulla tunisia e egitto anche lì sul sul sulla rivolta eh un capitolo interessantissimo sul sulla sulla connessione tra le lotte di indipendenza portate avanti da lavoratori lavoratrici nelle colonie portoghesi e poi infine il la fine del della dittatura fascista in portogallo anni stanta la la rivolta nel 1980 in corea del sud e giappone resistenza operaia al mercato neoliberista di lavoro e di regolazione india le mobilizzazioni sindacali contro il regime di modi vabbè poi indonesia contro il regime su arto filippine eh una cosa attuale Iran anche attuale Israele la contraddizione eh di della gran parte dei dei movimenti sindacali con la questione eh repressione eh palestina e palestinesi eccetera e eh quali altri movimenti operari o sindacali ci sono Libano la 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 rivoluzione di ottobre la recente praticamente e le 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 Spagna, il passaggio del franchismo alla democrazia e il ruolo dei sindacati, il grande sciopero delle miniere di carbone in Inghilterra o nel Regno Unito negli anni Ottanta, Francia contro Macron, la Germania dell'Est nell'89-90, cioè il passaggio alla riunificazione, che ruolo hanno avuto lì gli operai e come hanno cercato di organizzarsi e poi, come ultima, la lotta antirazzista o la necessità di una lotta antirazzista dentro ai sindacati tedeschi. Ecco, questo è il libro. Molto ricco di spunti. Dario vi ha sottratto alcuni minuti, quindi la prendete con lui se io poi dopo vi parlo sopra. No, no, scherzo. Intanto volevo dare subito la parola a Lorenzo, che come ha detto Dario, ha visto, ha studiato questo caso della Tunisia e gli do subito la parola senza intrometri. Allora, grazie mille a tutti per l'invito, sono molto contento di partecipare a questo incontro e di aver potuto collaborare con un capitolo a questo libro. Sono stati molto interessanti i vari punti che sono stati sollevati, ma ovviamente io mi atterrò alla presentazione del lavoro di ricerca, che poi si trova anche nel capitolo, e condivido delle slide che da bravo mi sono fatto, dovrebbero vedersi. Niente, si tratta di una parte, di una ricerca più ampia del mio dottorato, per una comparazione del ruolo dei sindacati nella primavera araba. Adesso facciamo capirci un po' se sui termini di rivoluzione tunisina e che primavera araba, perché se no non ne veniamo più fuori. E in questo articolo in particolare io mi concentro sulla relazione tra Lujet e Tete, il principale sindacato tunisino, e i lavoratori precari nel corso della rivoluzione tunisina. Però prima di cominciare io volevo comunque spendere alcune parole per ricordare Giulio Reggeni, nel senso che oggi è l'anniversario, il sesto anniversario del suo rapimento, a cui poi, come purtroppo tutti sappiamo, sono seguite le torture e l'omicidio. Sappiamo anche che non c'è ancora verità e giustizia in merito a questo caso, nonostante tutte le proteste e le mobilitazioni che ci sono state. Chiaramente sappiamo anche il ruolo degli interessi geostrategici, che facciamo sì che esistano ancora queste violazioni dei diritti, non soltanto per, insomma, i ricercatori stranieri che lavorano in Egitto, ma anche per tutti i vari militanti, attivisti, operaia non, che sono stati vittime di repressione in questi anni. Io nel gennaio 2016 stavo facendo ricerche sul campo in Marocco, studiando appunto i sindacati, e quindi, insomma, è anche un tema che sento particolarmente vicino. Venendo ora al dunque, sono conosciuto il fatto che il tempo a disposizione è limitato, il problema principale un po' era anche quello che veniva menzionato nell'introduzione, cioè i cambiamenti della composizione di classe, sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo. Il tema è enorme, però diciamo perché per quanto riguarda la Tunisia, questo grafico dà un'idea abbastanza precisa di alcuni elementi, ovvero un declino secolare per quanto riguarda il settore primario, in particolare l'agricoltura, dovuta all'introduzione dell'agricoltura capitalista moderna e alla sua espansione. Un'espansione dell'impiego industriale fino agli anni 70, fino agli anni 70, che poi però diventa stagnante, per cui in Tunisia non diminuisce, ma nemmeno continua a salire. Inoltre attenzione che, diciamo, questa aggregazione quantitativa nasconde un cambiamento qualitativo, nel senso che i bastioni sindacali degli anni 60 e 70 erano queste grande fabbriche di industria pesante, sviluppate con la sostituzione delle importazioni, grazie al protezionismo che allora erano riusciti a mettere in atto. Mentre poi c'è stata un progressivo crisi e declino di queste grandi industrie, per quanto molte sopravvivono ancora, ma con meno operai di prima, e questo impiego è stato recuperato in industrie leggere, a poco valore aggregato, bassi salari e relazioni di lavoro molto più precarie, per cui nel tessile, nell'agricoltura, per l'export all'Europa. Le altre industrie, quindi le miniere soprattutto, c'è ancora prima una diminuzione, poi uno stagnamento. La pubblica amministrazione cresce, ma poi con l'inizio di programmi strutturali stagna, quindi tutto il grosso, la grossa espansione dell'impiego che c'è stata nel corso degli anni 80 in poi, quindi nella fase neoliberale, è nel settore dei servizi privati. Quindi fino a un certo punto tutto l'impiego che si perde in agricoltura viene recuperato più che altro dall'industria. A un certo punto questo finisce, negli anni 80, e coloro che avevano espulso dall'agricoltura vanno direttamente nei servizi, ma quando parliamo di servizi privati in Tunisia, come potrete immaginare, stiamo parlando di lavori nella finanza, nel design, ma di lavori estremamente precari, molti nell'economia informale. Tant'è vero che Mohamed Bouazizi, il giovane precario che si è suicidato all'inizio della protesta, in qualche modo dandogli inizio, era un lavoratore agricolo che aveva perso l'accesso alla terra in cui lavorava e che vendeva quindi frutta e verdura per strada. Quindi parliamo di questi servizi nel settore privato di cui stiamo parlando. Per cui un po' il centro della problematica è come il principale sindacato tunisino, l'UJTT, che per diversi decenni è stato anche l'unico sindacato a fase alterne nella storia tunisina, fondato nel 1946, nel corso della lotta di liberazione nazionale, quindi con una forte sovrapposizione del ruolo di rivendicazioni sociali e del ruolo invece nazionale di lotta contro il colonialismo, che ha passato questa forte fase di scioperi degli anni 70, in cui appunto il centro era la grande industria, come è andato modificandosi assieme alla composizione di classe e come è riuscito a mantenere, nonostante questi cambiamenti, un ruolo centrale all'interno della politica tunisina e della transizionale democrazia, oggi di sospesa, come avrò modo di raccontarvi alla fine. Per cui quando parlo di lavoratori precari, io qua mi ricongordo con l'analisi che mi ha fatta prima anche da Dario, cioè questi giovani che vengono considerati come esterni in qualche modo alla classe sono invece proletari sostanzialmente, che però non riescono a vendere stabilmente la propria forza lavoro e di conseguenza passano da un lavoretto all'altro secondo vari tipi di schemi molto variabili, per le donne chiaramente una grandissima quantità di lavoro riproduttivo, ma che sono stati appunto i principali emarginati di questo periodo neoliberale dello sviluppo capitalista. Ora, i fatti che andiamo ad analizzare sono incentrati inizialmente in quella che è appunto conosciuta come la rivoluzione tunisina, che non deve essere ridotta a questo periodo di poche settimane, ma giusto per capire di cosa stiamo andando a parlare, è cominciata il 17 dicembre nel 2010, appunto con questa rivolta della gioventù precaria a Sidi Bouzid in seguito alla morte di Mohamed Bouazizi, e lì la cosa appunto interessante è che ci sono questi militanti sindacali dell'UGTT che dalla base, quindi anche in contrapposizione al vertice dell'organizzazione sindacale, danno sostegno organizzativo a queste proteste che sono cominciate in modo informale, organizzando anche delle manifestazioni di sostegno a Tunisi, nella capitale, per cui quando poi gli scontri si estendono ad altre regioni marginalizzate, in particolare a Kasserin, c'è questo lavoro interno al sindacato in cui una parte della base, la parte politicizzata, spinge il sindacato ad appoggiare queste proteste e a protestare contro la repressione in corso, che è stata una repressione violenta e fatale, nel senso che la polizia ha cominciato a sparare sui manifestanti. Per cui l'11 gennaio del 2011 l'UGTT autorizza degli scioperi generali regionali e i due più importanti sono quelli del giorno dopo, che era già stato organizzato da prima, quindi in qualche modo l'organizzazione centrale ha riconosciuto il fatto compiuto. This Fax, che è una delle principali zone industriali del paese, e poi il 14 gennaio nella Grand Tunis, che è anche quella di zone industriali che è tutto attorno alla capitale, che coincide con la fuga di Ben Ali e quindi l'inizio di questo processo di transizione democratica. Quindi se vogliamo fare un po' un'analisi di classe di questo processo iniziale, comincia con una rivolta ai giovani precari, quindi nelle comunità, negli spazi della riproduzione, non sui posti di lavoro, che sono organizzati informalmente e territorialmente nelle regioni emarginate, dove il tasso di impiego industriale è minimo, quindi non stiamo certamente parlando degli operai di fabbrica come avanguardia di questo processo. Però in tutto questo, questi militanti politicizzati dell'UGTT, che sono soprattutto nella pubblica amministrazione, quindi parliamo di insegnanti, lavoratori dei ministeri, così che era un po' quello che dava all'UGTT questa capacità di raggiungere tutte le regioni, sostengono dal basso la protesta per poterla estendere e fu così che riuscirono a portarla dai territori alle fabbriche, quindi ai luoghi di produzione più strategici. Però poi si è visto che, insomma, questa alleanza fra questi sindacalisti, che comunque erano parte della sinistra sindacale, questa gioventù precaria, è essa stessa l'alleanza precaria e superficiale, nel senso che poi la sinistra alle elezioni ha avuto dei risultati estremamente deludenti. Per cui, per iniziare ad avvicinarci alle notte dolenti, poi invece questa parte in cui tutto sembrava funzionare più o meno come dovrebbe, la politica istituzionale si è polarizzata lungo un cleavage modernismo-islamismo, in cui chiaramente la classe lavoratrice era divisa in due, e quindi non c'è stato un partito che in qualche modo si sia reso interprete delle istanze di rivendicazioni socio-economiche che arrivavano. Cioè, non ci sono mancati i partiti che ci hanno provato, purtroppo nessuno ci è riuscito. Anche con la complicità del terrorismo islamista, in cui sono stati assassinati anche due leader della sinistra, che ha esacerbato questa tensione attorno alla tematica religiosa. C'è stato un processo costituente che è entrato in crisi, ma è stato sorpassato attraverso il dialogo nazionale guidato dall'UGTT, che grazie a questo ruolo importante che ha avuto nelle mobilitazioni aveva questo tipo di credibilità. Però, da un lato, non c'è stata una sponda elettorale. E dall'altro lato, sul piano internazionale, dopo la sconfitta della primavera araba e gli altri paesi, ancora qui facciamo capirci, come dicevo, per quanto riguarda i termini, insomma, si è visto come un paese economicamente debole, piccolo, come la Tunisia, non ha avuto nessuna chance di opporsi a quelli che erano gli interessi comunque dell'Occidente, in questo caso. Per cui non è mai riuscita veramente a mettere in discussione questo ruolo suo, come degli altri paesi del Nord Africa, di fornitori di materie prime e di manodopera a basso costo. Per cui, per quanto riguarda i diritti sociali, in tutto il decennio, dal 2011 fino all'anno scorso, sono continuati dall'altro le proteste dei giovani precari per i diritti socio-economici, soprattutto con blocchi stradali che ostruivano i siti produttivi principali, per cui le miniere del fosfato, i gasdotti, le pipeline di petrolio, con rivendicazioni che riguardavano il lavoro stabile, quindi contro la precarietà, appunto, e lo sviluppo locale. E allo stesso tempo non data di scioperi sia nel settore pubblico che privato, vedete qua in basso un grafico che è molto chiaro. E questo ha causato un aumento della massa salariale, effettivamente, e un grosso aumento del settore pubblico, ma appunto per i motivi che dicevo prima, insomma, più politici, non c'è stato spazio per una trasformazione strutturale dell'economia, in un senso di un aumento dell'industria a valore aggregato, una riforma fiscale degna di questo nome, in senso progressivo, e via dicendo. E di conseguenza questo ha aggravato la crisi economica, che allo stesso tempo è una crisi sociale e politica della Tunisia, anche qua in grafica è molto chiaro, voi vedete che c'è stata comunque una crescita del tutto rispettabile del PIL pro capite, per quanto, insomma, sia limitato questo indicatore, fino alla crisi finanziaria del 2008, lì c'è stata una stagnazione che appunto ha anche contribuito a causare la rivolta, e poi però nell'ultimo decennio è stato un continuo declino, chiaramente non solo a causa della rivolta, della democratizzazione, tant'è vero che se nel prendessimo il grafico il PIL pro capite italiano sarebbe molto simile, però partendo chiaramente nel caso della Tunisia da livelli molto più bassi. Però senza dubbio c'è stato un aggravarsi del crollo del PIL, dell'inflazione cronica, un aumento della sottooccupazione e un deterioramento della qualità dei servizi pubblici. Tutte queste forti rivendicazioni economiche che sono state espresse anche con alti costi dalle fasce di lavoratori più emarginate, nelle regioni più emarginate, queste lotte di lunga durata sono andate a sbattere contro la crisi fiscale dello Stato e quindi che si trovava lo Stato preso in mezzo da un lato da queste forze rivendicazioni ai movimenti sociali e dall'altro lato dall'intransigenza degli istituti di credito internazionali, insomma, Fondo Monetario, Banca Mondiale, cosa che ha terminato per generare una demoralizzazione, una passività e poi anche una generale dell'egittimazione del sistema partitico e della stessa democrazia elettorale, nel senso che il breve decennio democratico della Tunisia è coinciso con questo crollo economico. di conseguenza questo un po' ha preparato il terreno per non so se vogliamo chiamarlo golpe soft o in modo il fatto che Kaisa Yad il presidente della Repubblica prendesse tutti i poteri l'estate scorsa complice anche alla situazione creata dalla pandemia e insomma con non venir meno della forza della protesta sociale Lujetetet ritorna diciamo alle sue posizioni di default che sono quella di prendere il cammino del mezzo e quindi ha inizialmente dato sostegno critico poi ha criticato molte cose però insomma non ha fatto un'opposizione anche perché hanno ritenuto che non ci fossero insomma i margini politici vabbè quindi una storia chiaramente che non è per ora finita bene nel senso che non sono stati ottenuti i diritti socio-economici che erano al centro delle rivendicazioni iniziali e i diritti civili e politici che erano stati conquistati rischiano rischiano molto in questo momento per cui per venire a chiudere insomma la lezione principale dal punto di vista dell'azione sindacale è quello della insomma necessità di adattarsi ai cambiamenti della composizione di classe soprattutto interpretando anche le istanze che vanno oltre la base sindacale e oltre la stessa forza lavoro salariata però insomma che quindi anche sulla parte non salariata della classe che non si deve essere interna alla classe e quindi un punto importante è la connessione fra le mobilitazioni appunto di riproduzione le comunità e i territori e quelle appunto di produzione e poi il fatto che insomma se vogliamo spiegarci un attimo com'è che sia andata a finire così da un lato c'è il mancato sbocco elettorale ma secondo me è anche più importante la simmetria dei rapporti di forza a livello internazionale e in questo ruolo delle potre monarchie del golfo nel loro ruolo di opposizione a questo tipo di istanze progressiste e con questo chiudo anche perché ho esaurito il mio tempo vi ringrazio molto per l'attenzione grazie grazie veramente da un paese dal nostro sud a un paese al nostro est chiedo a Anna adesso di raccontarci anche la sua esperienza della presenza del lavoro come strumento di democratizzazione del paese certo grazie grazie a tutti per l'invito mi fa molto piacere essere qui vedo adesso se riesco anche io a condividere in realtà un'immagine soltanto quindi vediamo se così funziona la riuscite a vedere questa foto la vediamo ok un attimo scusate niente io non riesco a vederla ma è lo stesso non importa innanzitutto vorrei un attimo presentarmi sono ricercatrice di storie all'università di Vienna e questo contributo per questo per questo libro fa parte della mia ricerca di di dottorato che ho completato in Inghilterra e nella così vorrei collegarmi già a quello che Roberto e poi Dario hanno discusso e ha una tematica appunto che secondo me è molto importante soprattutto quando si parla dei paesi dell'Europa dell'Est cioè la questione della fine del lavoro ovvero i paesi dell'Est Europa vengono spesso presi come così esempio principale insomma di esperienze nelle quali una trasformazione una doppia trasformazione da da un sistema socialista a un sistema di economia di mercato e da diciamo un regime non democratico a uno democratico e teoricamente devono aver portato a a una così a una fine della dell'importanza del del lavoro e in questo articolo io parto dalle proteste che hanno scosso la la Bosina nel 2014 proteste contro corruzione privatizzazione selvagge proprio per diciamo pormi questo cercare di rispondere a questo interrogativo di vedere se e fino a che punto insomma il lavoro sia veramente finito in questo in questo paese ex socialista o se invece proprio la memoria e il senso identitario che era stato creato durante l'esperienza jugoslava non abbiano poi insomma gettato le basi in realtà per una rafforzata condivisione e diciamo riunione in movimento di diverse realtà da storica io devo raccontare una storia e quindi comincio un po' un po' indietro giusto per dare un'idea insomma la Bosnia era è stato era un paese molto povero sostanzialmente a forte trazione agricola fino fino diciamo alla seconda guerra mondiale dopo la quale vede invece una una forte spedita industrializzazione che segue appunto questa questa idea del diciamo questo progetto iugoslavo di unire le sei repubbliche attraverso insomma una uno spedito una spedita crescita crescita economica quindi dobbiamo pensare che la Bosnia è caratterizzata da una parte appunto da da forti industrie soprattutto industrie pesanti che quindi hanno raccolgono moltissima moltissima forza forza lavoro sono miniere di carbone centrali termoelettriche produzione di alluminio eccetera questa cosa ovviamente viene accompagnata dal dal sistema di autogestione che la Jugoslavia attraverso che la Jugoslavia insomma costruisce e sperimenta già dal dagli inizi degli anni 50 è un'autogestione possiamo parlarne insomma successivamente magari non vi so spiegare troppo è un'autogestione che vede un l'ideazione di uno specifico concetto di proprietà attraverso il quale sostanzialmente gli gli operai e i lavoratori non solo si autogestiscono attraverso consigli di fabbrica nei quali appunto prendono diverse decisioni per diciamo la vita vera della della fabbrica e della produzione ma esiste questo sistema di proprietà sociale quindi una diciamo la proprietà della della fabbrica non è dello stato ma è della collettività del corpo lavoratore e questo diventerà particolarmente importante successivamente nel momento in cui ci saranno appunto queste privatizzazioni a tappeto possiamo chiamarle così degli anni 90 e quindi vediamo che tra gli anni 60 e gli anni 70 grazie proprio alla spinta verso da una parte questa rapida industrializzazione e in concomitanza quindi con una con una retorica di una di una creazione di una società socialista fortemente autogestita viene a crearsi un forte legame tra i lavoratori e le proprie fabbriche grazie anche appunto a questa idea particolare di questa proprietà sociale vediamo quindi che insomma per fare la storia breve dopo questa forte espansione economica c'è una contrazione invece negli anni 80 la Jugoslavia entra in crisi in una fortissima crisi economica politica e sociale che come vedremo insomma è insanabile e porta la Jugoslavia rapidamente a a disgregarsi in questo in questo frangente vediamo che già il movimento dei lavoratori comunque è molto presente soltanto apparentemente viene diciamo coinvolto e trascinato in retoriche nazionaliste da Milošević eccetera ci sono diversi studi che sono stati pubblicati anche da miei colleghi all'Università di Vienna che invece dimostrano come questa questo forte coinvolgimento del movimento operaio alla fine degli anni 80 non fosse in realtà appunto trascinato da un nuovo senso di nazionalismo da questo nuovo fascino insomma verso una visione di una società etnicizzata ma anzi fosse proprio un tentativo di manifestare una coesione del movimento lavoratore e una protesta nei confronti di un certo tipo di trasformazioni che venivano percepite come negative da parte dei lavoratori durante quindi il conflitto che segue e che dilanierà la Jugoslavia e soprattutto la Bosnia come voi saprete immagino non sono soltanto i lavoratori ma le fabbriche stesse che vengono contese tra le diverse tra le diverse fazioni e di conseguenza frammentate al loro interno e questo poi segnerà diciamo un'ulteriore frattura nel momento in cui si cercherà di andare a ricompattare questo paese dilaniato infatti in questo momento già diciamo nella seconda metà degli anni degli anni 90 che si inizia a discutere del problema delle privatizzazioni la Bosnia infatti esce dal conflitto di fatto divisa in diverse entità in questa diciamo in questi accordi di Dayton con questa pace congelata in cui si pone fine al conflitto armato ma di fatto la Bosnia rimane tuttora una società molto è un paese proprio diviso dal punto di vista non soltanto molto meno dal punto di vista etnico sociale e culturale molto di più dal punto di vista politico e proprio istituzionale la Bosnia ha tre parlamenti per esempio proprio perché diciamo c'è uno stato e al suo interno ci sono delle diverse entità che sono caratterizzate da diciamo una maggioranza etnica diversa in questo la responsabilità ovviamente della degli organi delle istituzioni della comunità internazionale è molto forte che da una parte appunto si pone come organo pacificatore ma dall'altra promuove delle riforme di stampo neoliberista di fatto per cercare di portare la Bosnia allo stesso livello di altri paesi socialisti che avevano già iniziato quella che si chiama la transizione già all'inizio degli anni degli anni 90 quindi cerchiamo di riportare la Bosnia insomma allo stesso livello di altri altri paesi ex socialisti liberalizzazioni privatizzazioni riforme di mercato e questo ovviamente ha discapito di lavoratori che erano non soltanto culturalmente socialmente ma anche legalmente ancora legati da un forte da un doppio legame proprio da questo senso di proprietà nei confronti delle proprie fabbriche delle proprie industrie che appunto aveva anche un aspetto legale cioè questa proprietà sociale a un certo punto deve essere trasformata in proprietà privata con una serie di problematiche che ovviamente ne conseguono proprio perché c'è questo assetto istituzionale complesso e niente per farla breve non vi racconterò tutta la storia di questo di questo articolo nell'articolo riporto ecco diverse diverse testimonianze sia di lavoratori di sindacalisti che hanno cercato in tutti questi anni di opporsi appunto a questo vasto programma di riforme che di fatto si è rivelato un vero e proprio esproprio di quelle che erano non soltanto risorse ma anche diritti con possiamo dirlo di fatto la connivenza di questi organi e istituzioni internazionali questi sono decenni di tutti gli anni diciamo la seconda metà degli anni 90 e tutti gli anni 2000 sono decenni di lotte di devastazione del tessuto economico produttivo e sociale della Bosnia che appunto hanno portato a queste all'esplosione di queste di queste proteste nel nel 2014 queste proteste hanno questo aspetto interessante che sono hanno hanno portato insieme un corpus che è il più possibile multietnico e multigenerazionale proprio perché c'è questo senso di condivisione di un'esperienza traumatica del conflitto alla quale si aggiunge il trauma della ricostruzione e di una di un riconoscimento di quelle che invece erano alcune degli aspetti positivi del sistema socialista al quale si guarda in parte sicuramente con un senso di nostalgia in parte con un senso invece di riconoscimento e di attenzione a quelle che potevano essere le opportunità mancate insomma di cercare di riguardare questa esperienza storica come qualcosa che possa aggiungere spessore politico a questo movimento e questo movimento appunto cerca di creare ecco delle nuove alleanze basate sostanzialmente sulla solidarietà di classe riconducendosi anche alla memoria condivisa appunto di questa esperienza dell'autogestione poi si può discutere ecco su le ramificazioni di questo di questo movimento e sulla sua in parte sul suo sul suo spegnimento dopo queste dopo queste proteste ma insomma ecco il mio tempo sta arrivando verso la fine quindi vi invito ecco a leggere questo questo libro che secondo me è molto molto interessante ringrazio ancora Dario per averci portato tutti insieme grazie 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 veramente Anna è molto suggestiva questo racconto noi diamo per scontato delle conoscenze che in realtà non abbiamo ed è interessante sempre bene avere la possibilità di trovare delle fonti come le vostre che poi raccontino un po' quali sono i dati concreti quali sono le cose reali che succedono e certi aspetti che sicuramente diciamo i mass media mainstream non non mettono in luce che invece sono degli aspetti importanti e prima di chiudere volevo chiedere un po' a Dario che cosa ci rimane di questo lavoro e che su qualcosa si può costruire ecco per qualche cosa per accumulare conoscenze per costruire qualche cosa che ci possa far uscire da questa situazione di difficoltà che abbiamo come mondo del lavoro penso che tanti dei punti li ho già detti prima in questo caso voglio riassumeli brevemente e magari dare ancora qualche minuto a Anna e Lorenzo di aggiungere qualcosa o su quello che ho detto prima o sul libro in generale che mi pare interessante ma penso sì riconoscere prima di tutto riconoscere che ovviamente l'identità di classe l'identità di lavoratrice operaia non è sparita e che è stata resa invisibile è stata resa una ragione per non so per essere sentirsi minori offesi o qualcosa durante gli ultimi ventenni cioè perché non so era più impressionante dire che ho gli investimenti in borsa che devo andare ogni giorno in fabbrica o non ho lavoro cioè per metterla anche così o devo continuazione cambio il lavoro 50 ore alla settimana e in sei posti diversi e cioè tutte queste cose che sono parte della vita dei lavoratori lavoratori di 10 e mi sembra importantissimo anche in Italia e si vede in tutti gli shopper in tutte le azioni nelle proteste che siano in Calabria o in Puglia nella raccolta della verdura e la frutta però anche quei poveretti che devono vendere prodotti in strada però anche addirittura in molte delle fabbriche o per esempio in tutta la logistica che la composizione di classe è completamente cambiata cioè completamente cambiata e le lotte vengono dai margini che non è una cosa che deve sorprendere cioè perché è ovvio cioè chi viene da lì l'esperienza di lotta e viene da lì l'esperienza di lotta più importante e quindi bisogna rendersi conto di questi fattori che hanno un ruolo centrale nella gerarchia che crea il capitale si tratta di 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 chiarire penso che però sia evidente in molti posti cioè non ce n'è anche da esagerare perché una è l'immagine della televisione un'altra è che se andiamo in molti quartieri di Roma di in alcuni quartieri addirittura di Milano di Napoli di Berlino di Parigi in Inghilterra c'è un orgoglio di e e un sentimento di classe non è che non ci sia cioè è che però non è quello che dicono i sindacati che sia è un altro è anche cioè e e quindi penso che l'importanza è di 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 riuscire a capire cioè prima è necessario che i sindacati abbandonino l'idea che ci possa essere eh di in qualche in che ci possa essere questo accordo tra lavoro e capitale per mettersi d'accordo come migliorare le condizioni questa è una storia del passato cioè il capitale è su decenni che non gliene importa più niente sì quindi quella penso che sia una lezione fondamentale da capire quindi questa continua insistenza su su questa cosa qua che fanno molti sindacati penso che sia cioè se guardiamo c'è stato poco fa uno studio interessantissimo nel British Journal of Industrial Relations che analizzava i Paesi Baschi e diceva che nei Paesi Baschi ormai un 70% dei lavoratori e lavoratrici sindacalizzati fanno parte di sindacati due grandi e alcuni piccolini che preferiscono la lotta e l'azione diretta alle negoziazioni e vediamo che i Paesi Baschi hanno uno dei livelli più alti di qualità di vita e anche di industrializzazione in Europa quindi cioè primo non è vero che i sindacati gli operai la lotta eccetera distruggono l'industria il lavoro eccetera e secondo fa vedere qual è la strategia che funziona e penso che questo sono le lezioni importanti vorrei passare spero che abbiamo qualche minuto per Anna e Lorenzo assolutamente sì anche per Lorenzo magari prima e poi Anna voglio fare qualche considerazione anche voi sì sì io cerco di essere breve ovvero sono d'accordo con tutti i punti che sono stati sollevati una cosa interessante su cui mi interrogavo ultimamente in relazione a questo è che secondo le stime dell'ILOSTAT quindi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dal 91 a oggi la percentuale di impiego nel manifatturiero è declinata dal 16 al 13 per cento quindi vuol dire che chiaramente non c'è un crollo del lavoro industriale nelle fabbriche ma c'è comunque un lento declino che noi io adesso gli ho scritto anche una mail per informarmi meglio sul loro mezzo anche per capire quanto peso dare a queste statistiche però questo chiaramente pone il problema delle forme organizzative di tutti coloro che stanno andando nel settore terziario che chiaramente questa cosa in Italia l'abbiamo vista anche di più di quello che si possa vedere a livello globale da un lato e dall'altro lato come diceva Dario all'inizio il discorso dell'intersezionalità che è una parola che è stata insomma anche criticata ma che non credo che sia stata sostituita una parola migliore quindi facciamo di nuovo capirsi ma comunque il fatto che l'oppressione raziale di genere e la devastazione ambientale si co-costruiscano abbiano una relazione di trasformazione reciproca con quella di classe e quindi le lotte che riguardano tutti questi ambiti siano lotte che riguardano anche il tema capitale lavoro di conseguenza insomma lo sforzo anche un po' di vedere questo ecosistema di organizzazioni in cui nessuna può pensare di essere quella totale tra virgolette che debba sussumere le altre ma che si crea insomma una sorta di dialettica virtuosa che insomma tutte le storie di lotta di più successo un po' quello che che si vede e che anche quando invece le cose iniziano ad andare male si inizia a vedere il tornare del settarismo di queste cose qua quindi appunto secondo me questa sorta di pluralità organizzativa di lotta è comunque una delle sfide del futuro rispetto a queste trasformazioni e la composizione questa era un po' un pensiero grazie grazie molto interessante da sviluppare come concetto forse richiamo un po' Kurdistan con l'idea di uno stato differenziato quello che può però forse anche la Jugoslavia ci raccontava un'idea di proprietà multipla che non non appare direttamente a livello statale ma un po' sociale questa forse è anche una dimensione interessante Anna tu vuoi l'ultima parola a te un commento intanto su quello che ha detto Dario mi viene in mente su questa questione dei paesi baschi non sono un'esperta però tiro acqua al mio mulino dicendo che insomma è una regione con una fortissima tradizione di autogestione quindi forse anche lì c'è questo c'è qualcosa c'è qualcosa sotto chissà sì sono sono d'accordo anche su questo in questi diversi aspetti che ha che ha sollevato Lorenzo inoltre se pensiamo ecco alla se penso alle regioni ecco più 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 vicina a quello di cui mi occupo quindi il centro e l'est Europa anche qui c'è una una fortissima problematica che deriva dal fatto che c'è una questione c'è uno scambio migratorio molto molto complesso all'interno di questi stessi paesi che diventano contemporaneamente paesi a forte emigrazione a forte immigrazione di lavoro dal circondario quindi c'è uno spostamento dall'est Europa verso i paesi dell'Europa più ricca e contemporaneamente questo crea uno svuotamento che richiede ulteriore forza lavoro dai paesi limitrofi ancora più poveri e questa questione è stata diciamo analizzata ma manca secondo me questo invece un aspetto di osservazione di che tipo di dinamiche appunto di come va a impattare la condizione dei diritti dei lavoratori e soprattutto che tipo di nuovi movimenti va a creare su questo si sa molto poco secondo me sarebbe sicuramente interessante esplorarlo forse nei nuovi 30 capitoli di una seconda edizione del libro va benissimo grazie grazie veramente grazie ancora e chiaramente invito ancora a leggere questo interessante libro e sicuramente seguiremo anche noi come Transform Transform in Europa abbiamo un'attenzione particolare a questo tema e con Dario Zellini e con un gruppo di lavoro sui beni comuni intendiamo sviluppare quel concetto che per noi è un po' un mantra cioè che anche il lavoro è una questione di beni comuni è una questione di processo sociale di accumulazione di una forza che definisca anche condizioni di lavoro come un bene sociale come un bene collettivo e quindi vada ripristinato come disegno generale collettivo appunto e non lasciato in mano ai privati che come sappiamo insomma fanno un uso distruttivo per per l'ambiente per le persone e ma per per la convivenza sociale per la giustizia sociale in generale quindi per noi questo tema resta uno dei temi importanti anche per il nostro lavoro prossimo quindi sono sicuro che ci incontreremo ancora vi chiederemo ancora di partecipare ai nostri lavori e grazie per la vostra pazienza la vostra capacità e la vostra intelligenza perché c'è molto bisogno di avere voci occhi che sappiano guardare il mondo così come lo guardate voi grazie ancora a tutte e a tutti quelli che ci hanno seguito e a prestissimo grazie mille a tutti è stato un piacere grazie grazie a presto grazie ciao ciao